Eccoci con il mister Marco Forcellesi del Recreativo a commentare questa bellissima e faticosa vittoria ai playoff contro la Valsecca perché avete giocato anche per metà secondo tempo tutti i supplementari in inferiorità numerica un recreativo che comunque ci ha creduto, era un svantaggio, è riuscito a rimontare in campo direi anche con merito nei regolamentari e ce l'ha fatta proprio alla fine nei supplementari, vi andava bene il 2-2 però in contropiede siete riusciti anche a vincerla siamo contentissimi per la vittoria del gruppo, devo ringraziare tutti i ragazzi in primis il mister Crescuolo che oggi ha fatto una grande partita come letture, una grande stagione da parte di tutti, è una serata bellissima e spero che non finirà mai Un recreativo che ha fatto un campionato sicuramente sempre da primi posti, in gran crescendo nel girone di ritorno è riuscito a conquistarsi il secondo posto, ha scapito proprio della Valsecca, i playoff li avete giocati in casa vostra che vi bastava il pareggio, alla fine siete riusciti anche a vincerli È stato un bellissimo campionato, avevamo contro il Valsecca che è una grandissima squadra oggi potrebbe caricare vita dirittatamente, noi abbiamo fatto il nostro massimo, secondo me siamo stati grandissimi quest'anno, la squadra è completamente nuova, di meglio non potevamo aspettarci Benissimo, faccio i complimenti a te, a tutta la tua squadra, a tutta la tua società intera Grazie che segui tante partite, grazie